Dottore Tacconi, ecco la cura con i monoclonali, Arezzo in questo è stato assolutamente precursore, ecco come sta andando? Diciamo che in questo periodo abbiamo intensificato ancora di più il numero dei trattamenti perché effettivamente andando a guardare il numero dei nuovi positivi di giorno in giorno sono aumentati e potenzialmente sono aumentate anche le persone a rischio di sviluppare delle complicanze per cui attenendoci a quelle che sono le indicazioni AIFA ovviamente abbiamo arruolato più persone, quindi siamo arrivati in questo periodo ad aver trattato più di 550 pazienti a partire dalla fine di marzo di quest'anno. Che cosa significa? Cioè che praticamente applicate questa terapia anche ai casi che diciamo non sarebbero gravissimi? Direi che l'aspetto più importante dei monoclonali perché riescano ad avere l'efficacia prevista è di somministrarli diciamo nei tempi più rapidi possibili. E questo generalmente avviene prima che il paziente abbia le complicanze, quindi in una fase precoce che normalmente dovrebbe essere entro i sette giorni dall'insorgenza dei sintomi e dal riscontro del tampone positivo, noi trattiamo i pazienti che hanno quelle caratteristiche che ci fanno ipotizzare che possano fare poi delle complicanze, quindi pazienti fragili che hanno delle comorbidità indipendentemente comunque devo dire anche dallo stato vaccinale per cui abbiamo trattato anche persone vaccinate che potevano avere fattori di rischio per sviluppare complicanze e devo dire che i risultati sono stati soddisfacenti. Noi avevamo fatto una sperimentazione che era quella del plasma partecipando a un grosso studio che si chiama Tsunami che ha dimostrato in maniera scientifica che diciamo alle condizioni in cui veniva fatto il plasma non ha dato dei benefici e quindi ci sono a questo punto evidenze che il plasma è una terapia che non dà un guadagno in termini di sopravvivenza, in termini di efficacia mentre i monoclonali sono prodotti in laboratorio con l'ingegneria genetica, sono puri tra virgolette nel senso che non sono assolutamente contaminati e non c'è la possibilità di andare incontro a potenziali pericoli di trasmissione di virus tipo l'HIVU, tipo l'epatiti come in teoria, molto raramente ovviamente, può avvenire con le trasfusioni e gli amoderivati e quindi questo è un altro margine di sicurezza nell'uso di queste molecole Oggi noi abbiamo otto ricoverati in degenza, covid, due dei quali con il casco direi che il 70% sono persone non vaccinate tra quelle vaccinate, come accade nella maggior parte dei centri clinici che seguono i pazienti affetti da covid abbiamo persone anziane o con grandi comorbidità e che quindi comunque è ovvio che la vaccinazione può avere dei limiti però devo dire che molto spesso queste persone non fanno dei quadri così importanti e così gravi come purtroppo li fanno i non vaccinati